Finalmente abbiamo appartato i lavori per questa riqualificazione, verranno fatte delle tettoie dove verrà messo del fieno per le mucche. Abbiamo fatto dopo 20 anni circa, abbiamo fatto la potatura degli alberi del viale centrale dell'istituto zootecnico. Stiamo facendo, abbiamo ripreso praticamente i muri di confine che erano quasi abbattuti e i bagni dell'istituto. Adesso finalmente è arrivato anche questo cassone che servirà come punto di stoccaggio per quanto riguarda il compostaggio. Abbiamo fatto una convenzione con alcune aziende della Sicilia, dando l'opportunità a tutti i cittadini della borgata e delle vicinanze di poter portare rami di potatura per la potatura, c'è spugli, rovetti e quant'altro. Così è nata una partnership tra l'istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia ed un privato, Vivai Pizzo. Il vivaio ha messo a disposizione questo cassone, è possibile quindi dalla mattina fino alle 19 di sera venire a conferire all'interno di questo cassone il cippato, la cosiddetta ramaglia. Cioè tutto quello che è il resto del giardinaggio, del verde, può essere portato qui. È importante che ovviamente non venga mischiato con plastica, con carta e con altri elementi perché qui deve arrivare il materiale ben selezionato. Perché ben selezionato? Perché il privato che abbiamo coinvolto è un privato che ha fatto di questa attività la sua mission. È un privato che mette insieme questo materiale e ne fa compost che viene poi utilizzato a sua volta per concimare. Potete arrivare in via Roccazzo numero 85, entrare con la macchina, prendere il vostro sacchietto, due sacchietti, quello che avete, anche con un piccolo mezzo, un camioncino e venire a conferire qui. Valermitani, dimostriamo che ce la possiamo fare. Insieme si può!